Grazie a tutti. Tra qualche istante sentiremo ulteriori dettagli da Diego Amà, anche se ormai iniziano ad essere pochi i minuti a disposizione. Prima di presentarvi i prossimi ospiti vi segnalo che proprio in questo momento dovrebbe essere in corso la consegna del premio Torquato Tasso per l'impresa letteraria ad Alessandro Baricco con la stretta di mano del sindaco di Ferrara al Teatro Boldini. Una bella iniziativa collegata al ventennale di Feltrinelli che proprio in questo mese sta festeggiando i vent'anni di questa libreria nella nostra città e che quindi vede questa sera la presenza di Alessandro Baricco. Quindi un ospite sicuramente di prestigio di cui vi daremo maggiori dettagli nelle prossime edizioni del TV Giornale. Adesso però in attesa di avere ulteriori novità per quello che riguarda il calcio vi presento gli altri ospiti che ci accompagnano in questa ora. Parliamo di applicazioni ma anche di turismo soprattutto e di tecnologia. Lo facciamo con Riccardo Stantato. Buonasera Riccardo. Buonasera a tutti. Benvenuto e con Pietro Bello. Benvenuto. Buonasera. Che insieme fanno Grand Tour Project e vi spieghiamo subito che cos'è questo Grand Tour Project. Allora rompiamo il ghiaccio subito spiegando di che si tratta e qual è la finalità di questo Grand Tour. Fondamentalmente si tratta di un'app per dispositivi mobili quindi funziona sia su dispositivi Apple quindi iPhone, iPad e funziona per tablet e smartphone Android. Fondamentalmente è un'app che permette di conoscere molto di più del luogo dove si vive e molto di più dei posti dell'Italia. Spiegando meglio direi che è un'app che permette di acquistare e di vedere a un prezzo estremamente contenuto, o si parla meno del prezzo di un caffè tanto per dare un'idea, un documentario relativo a un determinato bene culturale italiano. Noi siamo particolarmente poi legati al territorio di Ferrara perché ci ha permesso di avere già un buon numero, un congruo numero di posti da visitare. Siamo stati appunto alla cattedrale di San Giorgio, abbiamo potuto visitare il castello Estense, abbiamo avuto modo anche di andare all'abbazia di Pomposa. Ma non solo quello, anche altri posti, abbiamo coperto Verona, abbiamo coperto Ravenna, una serie di videodocumentari che possono essere acquistati a un prezzo bassissimo e in più lingue. Quindi in italiano, in francese, in tedesco e in inglese per il momento. Prima o poi se abbiamo fortuna ci muoveremo anche verso l'est Europa. E' una cosa bella, sono appunto disponibili sul proprio dispositivo mobile e sono tutti quanti sottotitolati. Ecco, questo era giusto per dare un po' la premessa, per spiegare l'argomento di cui parliamo, che poi tra l'altro è un argomento che si può estendere perché oggi appunto unendo due tematiche importanti, quella del turismo e quella delle app, in pratica per i cellulari, si possono creare appunto mondi estremamente nuovi che fino a qualche tempo fa erano praticamente impossibili. Allora, io però prima di entrare ultimamente nel dettaglio, scavare un po' in quello che riguarda questa vostra idea, questa vostra proposta, insomma, che questa sera ci raccontate, vorrei però presentarvi nel dettaglio chi sono Riccardo Santato e Pietro Bello. Due persone che hanno competenze diverse, che però unendosi appunto hanno avuto la possibilità di dare vita a questa iniziativa. Riccardo, già che hai rotto il ghiaccio, cominciamo da te. Tu chi sei, che studi hai fatto e cosa fai nella vita? Allora, io ho studiato beni culturali, conservazione dei beni culturali, mi sono laureato a Ravenna nel 2002, attualmente svolgo la mansione, sono un commerciante all'ingrosso di salumi e carni e beni generi alimentari. Quindi diciamo un'attività diversa. Un'attività completamente diversa appunto perché il mercato culturale in Italia è un po' fermo, un po' stantio, allora ci siamo gettati su qualcos'altro, però il pallino della cultura, il pallino dell'informatica l'abbiamo sempre avuto, l'ho sempre avuto e così ho contattato amici e conoscenti, per cercare di creare su un team affiatato su questa cosa. Ecco, e qui arriva appunto Pietro Bello, appunto, che invece in ambito di programmatore, informatico, eccetera, eccetera, questo è il tuo campo. Sì, questo è il mio campo, la mia passione da sempre. Io sono ingegnere informatico, però sviluppo software da sempre praticamente, da quando avevo 16 anni ho fatto la mia prima applicazione, poi ho seguito la carriera nell'azienda di mio papà che sviluppa software a Rovigo, adesso sono in un'altra azienda, sto seguendo progetti per conto mio e fondamentalmente da quando ricordo praticamente ho le mani sui computer e sviluppo software, programmi. Un appassionato a tutto tondo, insomma, che ha fatto di una propria passione la sua attività. Senza contare che comunque un incastro con l'arte e la cultura c'è, perché è di famiglia anche da parte mia. Mia sorella, ad esempio, è laureata in arte e attività culturali a Venezia, quindi entrambi, sia io che Riccardo, ci intersechiamo abbastanza nelle nostre passioni, chi di più dalla parte informatica, chi di più dalla parte... Non è stato difficile il connubio, insomma, è venuto abbastanza naturale. Vi conoscevate prima o... Eh sì, no, noi ci conoscevamo già da tempo, dopo oltre a noi due ci sono altri due persone, una è Andrea Tonin, che si occupa anche lui della parte del social, appunto dell'aspetto sociale della cosa e delle fotografie, e poi c'è Erika Tonin, che anche lei, appunto la sorella, si occupa di tutto quanto ciò che riguarda i testi e le pubbliche relazioni. Certo, ecco, intanto ti volevo chiedere una cosa, scusa, perché hai 16 anni, hai fatto la prima applicazione, ti posso chiedere quanti anni hai oggi? 34. Quindi, allora, intanto mi complimenti perché te ne davo di meno, ma a parte questo, cioè, quindi la tua prima applicazione per che cosa? Perché io quando uno parla di app penso subito ai cellulari e non poteva essere appunto... Eh, non era niente di semplice, tra l'altro, perché era un gestionale per la fumetteria più famosa di Rovigo, un gestionale che tenesse conto degli ordini, degli acquisti, dei clienti, insomma... Ed è stata poi utilizzata questa... Eh sì, è stata utilizzata per parecchi anni... Per parecchi anni, sì, insomma, vedi, no, questo è bello perché comunque mi piace evidenziare anche in questo programma quando abbiamo eccellenze di vario genere, insomma, che sia in un ambito che sia nell'altro, insomma, per far vedere che c'è appunto tanta... io sto per dire creatività, non è solo creatività, in realtà c'è comunque una predisposizione, però collegata anche all'idea di avere appunto un, diciamo, un senso pratico, ecco, di quelle che sono le tue caratteristiche. Ora intanto stiamo vedendo Grand Tour Project, in questo momento su Facebook. Il nostro profilo Facebook. Ecco, Riccardo, tu mi dicevi che, visto che ci colleghiamo a quello che dicevano i ragazzi che ci hanno proceduto, che vi hanno proceduto, il Stil Novo, ecco, loro dicevano che i social network, quando sono ben utilizzati, danno dei frutti. Sì, 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 per certo, perché ci permettono proprio di avere una visione sul mondo molto molto larga e soprattutto di avere il bello del social e l'immediatezza, l'immediatezza con cui tu riesci a contattare qualsiasi persona che sia appunto dispersa ai quattro angoli del pianeta. La bellezza di avere proprio il feedback e il ritorno da parte di persone che vorrebbero magari anche essere in Italia, vivere in Italia o poter visionare ciò che noi invece abbiamo sempre la possibilità, magari a un metro, e magari neanche ce lo immaginiamo. Ho avuto modo di parlare, non più tardi di due giorni fa, con un artista, un grafico 3D russo, allora via Skype, sempre con questi sistemi, via chat praticamente, parlando giustamente in inglese, il prossimo nostro documentario riguarda il Palazzo Ducale a Venezia, insomma si parlava di una possibile collaborazione, sentire le sue parole in inglese riguardo alla bellezza, io sono stato a Venezia in luna di miele, una cosa che non dimentico mai, e poi metto giù la conversazione e dico, ma io Venezia ce l'ho lì, cioè io Verona ce l'ho lì, Ferrara ce l'ho qua, non mi rendo neanche conto, io per primo, che pure ho avuto un corso di studi particolare, non mi rendo ancora bene conto da italiano quanto sia bello stare qui, è meraviglioso, è meraviglioso, e quanto poco lo sfruttiamo anche per questo, perché noi abbiamo un concetto molto particolare dello sfruttamento, passamelo Nicola, dello sfruttamento delle opere d'arte che secondo me è completamente sbagliato, noi dobbiamo riuscire a dare di più, a far vedere molto di più ciò che... Guarda, approfittiamo questo argomento, perché mi interessa, in che senso dovremmo dare di più per le opere d'arte, dove sbagliamo? Perché no, ti faccio una promessa, che l'Italia sia un paese turistico, penso che insomma tutti quanti lo possiamo assolutamente annoverare, confermare, in particolare abbiamo certe città come, vabbè che Venezia è un gioiellino, però Venezia è sempre piena di turisti da tutto il mondo, e comunque come Venezia anche tante altre città più piccole, ma che sono sicuramente molto battute, anche Ferrara devo dire che insomma si difende bene la turista turistica, però ecco tu mi dicevi, non la sfruttiamo in toto, che cosa dovremmo fare secondo te? Noi dovremmo avere, secondo il mio personalissimo punto di vista, delle politiche di sviluppo territoriale molto più forti, molto più efficaci, noi dobbiamo fare in modo, e questa è un po', la nostra app va in questa direzione, noi dobbiamo fare in modo che anche centri minori, e qua prendo proprio la nostra città, che siamo tutti quanti di Rovigo, anche centri più piccoli abbiano la fortuna di essere conosciuti all'estero, ci sono dei posti meravigliosi, e qua proprio vorrei citare, forse anche con un filo eccessivo di campanilismo, proprio la rotonda di Rovigo, state guardando adesso le immagini dell'organo della rotonda di Rovigo, in sovrimpressione, che è splendida, questa invece è la, oddio, la cappella Scrovegna Padova, ci sono, proprio la rotonda di Rovigo, e notizia di ieri, se non vado errato, rischia la chiusura per via di troppo pochi fondi, destinati alla gestione di questo bene, i fondi dal 2012 al 2014 sono arrivati in ritardo, e sono estremamente insufficienti. Certo, guardate, scusami ti interrompo un attimo, perché mi dicono che è finita in questo momento appunto Forlispal, stiamo vedendo le immagini, purtroppo insomma è finita male per noi ferraresi, 1-0 per i romagnoli, e quindi credo che, anzi stanno già arrivando dei messaggi, credo che le critiche nei confronti della SPAL, saranno piuttosto forti in queste prossime ore, ora intanto, adesso è arrivato un messaggio, dice, e adesso via brevi, oppure cambiamo tutti i giocatori, un altro messaggio dice, via non solo brevi, ma pure Vagnati, Laurenti Forever, eccetera eccetera, insomma stiamo arrivando vari messaggi, che criticano questa SPAL, che questa sera purtroppo ci ha delusi, non so se, a parte che voi non siete di Ferrara, però non so se voi seguite il calcio, giusto per sapere, segui qualche squadra in particolare, sei simpatizzante, non te lo chiedo nel dettaglio, però, Juventino, Juventino, in tutto caso non lo segui? Di fronte di un pubblico di calciatori, sono regvista, quindi, ah è vero, perché poi avete a Rovigo, effettivamente avete regvisti, siamo reduci da una finale, veramente al cardiopalma, che nella città, non è ancora stata molto ben digerita, certo, però insomma, lo sport è bello anche per questo, cioè voglio dire, gioie e dolori, fanno battere il cuore, tra l'altro è molto bello anche questa cosa, è vero, effettivamente noi, anche pur essendo vostri vicini di casa, non ci pensiamo a quanto a volte, in altri territori, ci siano sport che vanno fortissimi, e che forse troppo poco, vengono ricordati altrove, quindi il rugby, sappiamo che è una potenza da sempre di Rovigo, poi capitano i momenti anche no, però insomma, questa sera abbiamo un momento no, molto abbastanza, questa sera abbiamo un momento no per la SPAL, che purtroppo rimane ferma a 21 punti, tra l'altro, come diciamo sempre, essendoci questo campionato spezzettato, adesso dobbiamo pure aspettare tutti i risultati delle altre, per vedere come sarà l'esito della classifica, intanto però continuiamo a parlare di arte, che almeno quella ci mette di buon umore, arte, cultura, e soprattutto anche legata alle tecnologie moderne, quindi insomma, un qualcosa che ci riporta al passato, ma in realtà concretizzato sul presente, con Riccardo Santato e Pietro Bello, legati a questo progetto, chiamato appunto Grand Tour Project. Ora Riccardo, ti ho interrotto, non mi ricordo in che frangente mi hai preciso, però... Mi pareva che avessimo concluso, se non mi ricordo male. Concluso il discorso. Ah già, si parlava appunto della rotonda, delle difficoltà, ecco. Per cercare di valorizzare, trovare mezzi, modi, soprattutto, anche a volte a costo zero, a costo molto basso, però per riuscire a incanalare flussi turistici, e questo magari proprio i social ci possono essere d'aiuto, anche non solo per il mondo privato, tra virgolette nostro, ma anche nel mondo pubblico. Bisogna cercare di guardare al mondo del web con una maggiore attenzione e con meno, diciamo, così, meno puzza sotto il naso, non mi viene in mente un modo migliore per dirlo, però, avere, essere più contingenti in questo campo. Ma voi, giusto per capire, adesso avete lasciato questa vostra app, appunto, che sicuramente, insomma, verrà poi sviluppato ulteriormente, avete già diverse città, ma so che sta crescendo, però immagino che da soli si faccia ben poco, per quanto siate affiatati. Voi le state proponendo a qualcuno, avete parlato con istituzioni, con privati, con... Sì, abbiamo trovato delle risposte estremamente variegate, in particolare, poi, la cosa bella è che, proprio nel territorio dell'Emilia Romagna, siamo riusciti a lavorare in una maniera splendida, cioè, noi non abbiamo avuto nessun problema a lavorare con la curia di Ferrara, per quanto riguarda la cattedrale con la signora Dominicali, per quanto riguarda invece l'aspetto del castello estense, quindi, sia da un punto di vista statale, che da un punto di vista della curia, e quindi dei beni ecclesiastici, ma anche Ravenna, sono stati veramente... si è visto subito la volontà di perseguire nuove forme di trasmissione, di divulgazione culturale, anche per magari raggiungere un pubblico completamente diverso, cioè magari il ragazzo, magari americano, che prende questa app, la scarica dall'App Store o da Google Play, e dice, ma guarda che bello che è, questo posto dove vivono queste persone, quanto bello è, e non sapevo magari neanche che esistesse, chiaro, tutti sanno dove è Venezia, dove è Roma, dove è Napoli, dove è Firenze, ma quanti sanno, ecco qua è proprio una sovrimpressione, questo è proprio il momento, poi c'è tutta la descrizione della nostra cattedrale di San Giorgio, noi guardiamo come facciamo noi i video, quindi letteralmente sono tutti disponibili anche in alta definizione, quindi in HD, riusciamo a buttarli direttamente dentro ai vostri tablet o agli smartphone, e quindi la qualità e il dettaglio sono veramente, secondo noi, forse in modesta espressione, insomma decisamente molto elevati. Allora, io direi adesso, intanto stiamo vedendo queste belle immagini, però dobbiamo fermarci in pubblicità, quindi poi torneremo a parlare ancora di voi tra qualche minuto, rimanete con noi, se volete scriverci messaggi, fatelo pure, vedo già che sulla spalla ci state riempiendo di messaggi, e comunque insomma li leggeremo compatibilmente allo spazio con le interviste del dopo partita. Tra poco ancora in diretta. Perché insomma stanno arrivando decine di messaggi, tutti quanti tematici, insomma bene o male che vedo che siete tutti, tutti d'accordo nel chiedere l'addio di brevi, insomma alla panchina della spalla, insomma parte un messaggio forse dove praticamente dice buonasera non dovete prendervela con brevi, la squadra non è stata allestita da Barcellona, bisogna ridimensionarsi, questo è un messaggio più morbido, e poi tutti gli altri sono comunque abbastanza concordi nel cambio di allenatore. Ci sono però anche messaggi per i nostri amici legati appunto alla app, io però devo ancora presentare l'ospite che è arrivato adesso, che ha preso il posto di Pietro Bello, ovvero Andrea Tonin, sempre di Grand Tour Project. Buonasera Andrea, benvenuto. Buonasera, grazie. Benvenuto. Allora Andrea, una breve descrizione, chi sei e di cosa ti occupi all'interno appunto di questo progetto, di questa applicazione? Allora, io essenzialmente mi presento un attimo, come lavoro mi occupo di marketing diciamo estremo legato a quello che è internet e web. Io vengo dalla Rai, essenzialmente ero nel libro paga di Rai, dove realizzavo grafica 3D e effetti speciali per video musicali e cartoni animati. Bel lavoro tra l'altro. Sì, è molto particolare, più che altro e si impara a farlo da soli diciamo, quindi non ci sono ancora scuole o realtà veramente che ti preparano, quindi nasce dalla passione, quindi diciamo che l'ho cercato e l'ho trovato, quindi sono molto contento insomma di questo. E adesso mi sono messo diciamo da circa 5-6 anni di lavoro improprio e mi occupo di, diciamo questa volta effetti speciali legati al marketing, volendo citare quello che dicevo prima. Perché? Perché adesso avere per un'azienda, un sito internet statico, magari che funziona solamente su PC, è una cosa abbastanza diciamo limitativa. Adesso è necessario fare dei siti che funzionano su PC, dei siti che funzionano anche su dispositivi mobili, il che complica la cosa dal punto di vista tecnico. È necessario anche inserire dei videogiochi all'interno dei siti, cosa nuovissima, già che negli Stati Uniti funziona moltissimo, ma in Italia siamo assolutamente i primi a proporla, cosa anche difficile da far capire alle aziende in questo caso. Perché ad esempio un gioco potrebbe essere utile, perché? Perché giocando, realizzo, faccio dei punti, ottengo ad esempio di buoni sconto, che è una cosa molto semplice, ma che in Italia ancora non è ancora stata recepita. Quindi noi abbiamo unito, io ho unito questo mio background legato agli effetti speciali, la grafica 3D, per realizzare un marketing un po' innovativo. Ovviamente tutto questo background in toto è stato portato all'interno del Grand Tool Project. In particolare per il progetto mi sono occupato della parte fotografica e della parte ovviamente legata al social marketing, quindi Facebook, Twitter e un blog per andare a gestire quello che sono le news, le novità e tutto quello che può spingere dal punto di vista sociale l'applicazione. Sì, insomma, tutta una parte comunicativa molto importante che vi ha permesso di farvi conoscere ulteriormente e allargarvi a livello internazionale in pratica. Esattamente, perché questo è l'unico veramente sistema che ti permette di superare i confini italiani, perché soprattutto parliamo negli Stati Uniti, parliamo in Germania, parliamo in Francia, in Spagna, il social è molto sentito, ed è anche molto utilizzato, ci sono addirittura aziende specializzate solamente nel marketing su Facebook, cosa che in Italia non esiste, perché viene delegato al semplice webmaster il compito di andare a fare un po' di marketing su Facebook, cosa che è assolutamente sbagliata, perché in realtà è un mondo assolutamente a parte che richiede ore di studio notate in piedi per capire come funziona e perché diventi veramente efficace e non uno spreco di denaro e di energie. Infatti il Grand Tour Project è partito proprio da entrambi, tutti e tre diciamo, perché ovviamente quando facciamo le riunioni anche se adesso abbiamo cercato un po' di dividere le specialità, siamo tutti quanti appassionati di video, di fotografia, quindi ognuno un po' invade il campo nell'altro, lo integra e lo ampia. E lavorare in gruppo d'altronde, la forza è questa. Esatto, infatti non a caso il gruppo non è nato con una ricerca, con un annuncio sul web, ma siamo tutti, ci conosciamo da una decina d'anni, ci fidiamo uno dell'altro, siamo competenti e sappiamo che ogni volta che abbiamo iniziato un lavoro è stato portato a termine con successo, altrimenti non sarebbe neanche stato proponibile imbarcarsi diciamo al buio in un'operazione così pesante, perché comunque adesso se uno scarica l'app e la prova sembra tra virgolette facile da realizzare, in realtà è complicatissimo sia dal punto di vista amministrativo, infatti io vorrei ricordare ad esempio tutti gli sforzi che ha fatto Erika Tonin nel riuscire solamente ad ottenere i permessi con le pubbliche amministrazioni che richiedono permessi, contropermessi, diciamo che gli operatori tutti gentilissimi e molto competenti. Guarda, ti chiedo scusa, abbiamo un'altra intervista, poi c'è un messaggio per voi comunque, ci sono tanti messaggi che riguardano il calcio ma anche legati a questa applicazione. Sandro, a te la linea, chi hai adesso come ospite? Problemi tecnici appunto per quello che riguarda le interviste, allora ovviamente comunico sia alla regia sia all'Alessandro Sovrani se dovesse essere ripristinata, siamo pronti a dare la linea appunto a Forlì. Intanto ne approfitto per leggere un messaggio invece, allora stanno continuando ad arrivare molti messaggi critici nei confronti di brevi, vedete che in questo momento non abbiamo il collegamento con Forlì. Allora andiamo a Lendinara, perché c'è Arianna che dice complimenti per questa bella iniziativa culturale, una bella idea per avere l'arte a portata di mano e chiede Arianna quante città avete già documentato. Arianna tra l'altro mi precede, perché te l'avrei chiesto io, quindi così... Abbiamo documentato Verona, Padova, Ferrara, Venezia, Ravenna, Rovigo ovviamente, mettiamo anche giustamente Codigoro e cosa manca, aiutami a dire... Dì però il totale dei punti di interesse. Il totale dei punti, questa è proprio l'eccità per rispondere Arianna, il totale dei punti di interesse sono una trentina, disponibili in quattro... 25 precisamente, 25 disponibili in quattro lingue e in due risoluzioni diverse, quindi volendo da scaricare... Lingue, l'italiano, inglese ovviamente... Francese e tedesco. Ok, quindi insomma... Tutte quante sottotitolate, la cosa è anche positiva perché così riusciamo non solo a venire incontro al mondo dei portatori da handicap che molto spesso viene un po' lasciato a parte ma anche perché è facile in questa maniera riuscire tra virgolette a entrare in un luogo sacro mettersi anche senza le cuffie magari uno non ce l'ha dietro ne toglie l'audio e si fa partire i sottotitoli ed ecco che si guarda e si sta lì e osserva il suo mondo e tutto quanto spiegato insomma è una cosa decisamente molto particolare un progetto un po' innovativo molto ambizioso anche da un punto di vista proprio culturale perché vogliamo anche spostare un po' quelle direttrici di traffico turistico che vanno sempre un po' sempre un po' nelle solite città noi vogliamo proprio far fiorire anche le nostre ma guarda io tra l'altro ecco allora guarda poi parliamo anche magari della vostra città di Rovigo che magari forse è la città leggermente meno frequentata per quello che riguarda il Veneto del complesso però prima torniamo a Forlì c'è ancora Alessandro Sovrani con un'altra intervista Sandro ti auguro una buona serata Sandro l'auguro anche a chi ci sta guardando anche se abbiamo gli ultimi minuti ancora a trascorrere insieme anzi un minuto giusto per risalutare i nostri ospiti ovvero Riccardo Santato e Andrea Tonin e saluto anche Pietro Bello che ci ha accompagnato nella prima mezz'ora Riccardo per chiudere questo discorso su Grand Tour Project in un minuto che cosa possiamo ricordare al nostro pubblico? Possiamo ricordare che è il modo più semplice il modo più economico probabilmente anche il più moderno per dare spazio con una tecnologia del futuro a tutto ciò che di bello c'è nel nostro passato Perfetto allora quindi scaricate questa applicazione grazie a entrambi grazie a tutti e tre per averci dati dettagli anche legati alla nostra città anche Ferrara e insomma speriamo che tutte le città che avete visionato possano essere valutate anche grazie a questa applicazione allora vi ricordo che Domenica con te torna in versione venerdì il prossimo venerdì appunto come dicevo poco fa perché la SPAL giocherà alle 20.45 del 28 di novembre vi segnalo anche che per vedere Forlispal potrete seguirla qui sui nostri canali 16.113 domani sera alle 21.30 e anche domenica sempre alla stessa ora quindi parliamo delle 21.30 mentre lunedì immancabile il commento di lunedì sport è veramente tutto allora grazie ancora ai nostri ospiti noi ci ritroviamo tra sette giorni alle 20.30 qui su Telestense grazie a tutti